Ciao a tutti amici amiche rider e benvenuti in un nuovo video. Siamo ancora a casa e quindi quale miglior momento di parlare dell'abbigliamento tecnico. In realtà questo video l'avevo già fatto tanto tanto tempo fa quando avevo appena preso la moto ma mi sono reso conto che non c'erano davvero delle informazioni utili e si limitavano semplicemente a mostrare quale abbigliamento usassi io. Dopo un anno, vari confronti, varie prese di informazione sul web e con amici più esperti di quanto non lo sia io, allora adesso mi sento pronto anche dopo aver provato tanto abbigliamento tecnico a fare questo video per cui oggi parliamo di abbigliamento tecnico in moto. Cosa mettere, cosa scegliere e soprattutto perché? Perché ogni tipologia di indumento, stivale, scarponcino, tuta, tuta in pelle ha un suo perché e una sua specifica tipologia di utilizzo. Quindi iniziamo dalla parte più in basso per poi salire fino alla parte in alto. Non parlo di caschi perché altrimenti il video sarebbe verso l'infinito e oltre ma fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete anche un video dedicato ai caschi e successivamente anche agli interfoni perché ne ho provati un po' e quindi magari vi posso portare qualche dritta su come scegliere l'interfono più adatto al vostro utilizzo. Iniziamo dunque da questi scarpe tecniche oppure stivali. Beh, iniziamo dalle scarpe. Sono sicuramente l'indumento da cui partire. Perché? Perché le scarpe ti consentono di cambiare bene, di avere la giusta sensibilità, di avere grip sulle pedane e quindi tutta una serie poi di movimenti che vanno a influire sulla postura finale quando vai in moto. Non solo la scarpa ti deve proteggere perché la caviglia è una zona molto delicata quando vai a cadere per cui deve essere, deve avere le giuste protezioni. Uno scarponcino come questo ci sono diversi brand che li producono. Oggi non andrò a parlare di singoli brand ma proprio come tipologia di oggetto. Questo scarponcino qua ha la punta protetta quindi questo cosa vi agevola? Sul cambio perché potete cambiare tutte le volte che volete. Ovviamente si andrà ad usurare leggermente ma non si andrà a bucare come invece potrebbe avvenire con una tradizionale scarpa da tennis o con una tradizionale scarpa. Dopodiché un'altra protezione importante come potete vedere qui c'è il simbolo dell'olio e del grasso della catena e ogni tanto schizza la protezione per la caviglia. Soprattutto nella parte interna perché c'è questa protezione perché se voi cadete e la moto vi si poggia sulla caviglia questo vi permette di evitare di spezzarvela. Quindi è una protezione davvero molto molto importante. Un buono scarponcino come questo ha un prezzo che può variare dagli 80 euro fino ad arrivare anche ai 200 euro. Ovviamente fate il rapporto al vostro budget è una delle cose che secondo me non deve mancare. La caviglia è molto sollecitata quando andate in modo così come anche il piede. Non avere una scarpa tecnica e fare tante cambiate significa anche andare ad avere fastidio sulle dita, sul piede e andare poi ad avere dolori che potrebbero benissimo essere evitati con una scarpa tecnica. Difetti? Si usurano molto in fretta. È anche vero che io con queste scarpe ci ho fatto circa 19.000-20.000 km solo quest'anno. Non le ho messe praticamente per qualsiasi uscita e come potete vedere si usurano tanto nella zona inferiore soprattutto nei punti a contatto. Anche perché io uso tanto il piede per verificare magari anche le condizioni dell'asfalto per cui molto spesso vado a grattare la suola. Altra cosa, la cerniera è comoda perché poi ve li potete togliere in maniera molto tranquilla, dopodiché verificate che siano abbastanza alti fino a proteggere fin sopra la caviglia. Queste sono le cose su cui stare attento sullo scarponcino. È un indumento flessibile, lo potete utilizzare per camminare e pesante, senza dubbio, è molto più pesante di una normale sneaker. Però almeno avete sempre la protezione. Questo qui va bene se ci dovete andare al lavoro, se usate la moto per spostarvi in città, se fate anche qualche piccolo viaggetto o perché no anche viaggi più grandi che comprendono magari una passeggiata. Quindi è perfetto per un utilizzo diciamo misto e svariato. Difetto non è impermeabile. Esistono però degli stivaletti e degli scarponcini impermeabili, dovete cercare appunto il modello. Tuttavia questi non sono mai al 100% impermeabili. Invece per quanto riguarda gli stivali tecnici, beh abbiamo tutto un altro tipo di protezione. Innanzitutto la suola è molto più rigida. Qua c'è sì una lieve parte in gomma, ma è soprattutto plastica. Dopodiché abbiamo gli slider, questi possono essere in metallo, diverse lega, possono essere alluminio, magnesio, fanno scintille oppure di plastica. Sono anche, si possono cambiare. Dopodiché c'è una grandissima protezione per quanto riguarda la parte anteriore della gamba e ovviamente la caviglia. Sono sicuramente molto più rigidi, molto più scomodi per camminare. Ci va un attimo di abitudine per imparare ad avere la giusta sensibilità sulla moto, ma il livello di protezione è sicuramente molto molto più elevato. In questo caso questi sono diciamo da metà stagione perché c'è una presa d'aria nella parte anteriore. Esiste anche la versione senza presa d'aria, quindi quest'aria qua è completamente coperta, magari si soffre un po' durante l'estate. Sono completamente regolabili, c'è un velcro, a seconda del modello può essere o nella parte posteriore o nella parte laterale, che va a permettere la regolazione. Questi qua in particolare sono stivali che si mettono fuori dalla tuta, quindi questa parte qua rimane sempre visibile. Esistono anche gli stivali che possono essere inseriti all'interno del gambale della tuta. Il prezzo alla fine è uguale. Questi però offrono maggiore protezione proprio perché c'è questa parte anteriore. In questo caso se la moto vi cadesse, dovesse scivolare e la moto vi cade sopra, anche da fermi, beh, nessun problema. Questo vi permette di evitare la frattura della caviglia o danni ben più gravi. Sono solo rigidi, non li consiglio se dovete usarli per un'uscita che prevede anche delle escursioni, una passeggiata. Magari volete visitare un centro città, in quel caso potrebbero risultare sicuramente un po' più scomodi. Sono però il dispositivo da scegliere se volete mettere un pantalone in pelle o una tuta perché si integrano in maniera perfetta eventualmente con questa tipologia di abbigliamento. Anche in questo caso il costo è variabile e soprattutto dipende dalla tipologia di stivale. Questi sono un po' più racing, un po' più spinti, ma esistono anche stivali più touring, quindi hanno un rivestimento esterno un po' più morbido e assomigliano a dei normali stivali in cuoio. Quindi il prezzo in questo caso può variare dall'80 a 90 euro fino a raggiungere i 250, ma anche i 350 euro con gli stivali più tecnici. Certo dovete capire che tipo di uso volete farne. Se volete spingere questo vi permette di avere un po' più feeling perché la suola dura trasmette più vibrazioni e più sensazioni al piede. Quindi capite come si sta comportando la moto. Se invece volete viaggiare più in tranquillità o senza rinunciare alla protezione che solo uno stivale può dare, beh allora esistono stivali touring anche in Gore-Tex, quindi completamente impermeabili e con tutte le protezioni incluse. Basta capire insomma dove volete andare letteralmente. Dopodiché passiamo ai pantaloni. In questo caso c'è un pantalone tecnico come questo qui oppure dei normali jeans. Allora iniziamo dai jeans che non ho tirato fuori perché li ho piegati, lavati e soprattutto adesso siamo tutti chiusi per cui non li ho presi, questi ce li avevo a portata di mano. Beh i jeans tendenzialmente ce ne sono di diversi tipi, quelli più base base non hanno protezioni, hanno solamente un tessuto leggermente più resistente all'abrasione, ma alla fin fine non cambia tantissimo. Vanno bene se fate una scivolata a 20 km rari, uscite da una curva, c'è il brecciolino e vi appoggiate a terra. Ok perfetto, allora in quel caso proteggono e soprattutto lo speciale tessuto protegge dal calore che può emanare la moto. Ci sono moto che sono molto calde per cui un tessuto tecnico aiuta a proteggere le gambe da eventuali ustioni anche quando magari toccate lo scarico per sbaglio. Tuttavia in caso di caduta non è proprio la protezione migliore, si migliora leggermente con i jeans che vanno dagli 80 ai 200 euro perché in quel caso è possibile trovare non solo protezioni per le ginocchia, ma anche protezioni per le gambe e protezioni per le anche molto importanti perché il bacino è molto soggetto agli urti quando andate a cadere. Però comunque il jeans diventa un indumento che si è flessibile, va bene per un uso diciamo normale che non preveda tantissimi chilometri oppure magari d'estate perché comunque il caldo lo soffriamo un po' tutti. Il jeans tecnico è uno di quegli indumenti che però secondo me non dovrebbe avere la priorità su un pantalone tecnico. Prima prendete il pantalone, poi dopo prendete il jeans. Perché prendere il pantalone? Perché sicuramente il pantalone è un'alternativa migliore, innanzitutto ne esistono anche di impermeabili, quindi questo qua in particolare non è impermeabile, però per esempio la mia ragazza ha scelto un pantalone sempre dello stesso brand impermeabile. Dopodiché una cosa molto importante è che hanno gli inserti catarifrangenti che ti permettono di essere molto più visibili e soprattutto lateralmente, perché un problema delle moto è che c'è il faro davanti e dietro ma lateralmente non ci sono segni luminosi, sono completamente regolabili. In questo caso c'è anche la cerniera per abbinarlo ad un'eventuale giacca e in questo caso qui ci sono per esempio anche non solo le prese per aumentare la reazione, quindi d'estate comunque risultano abbastanza freschi, ma è possibile installare anche un trapuntino per cui d'inverno avete sicuramente più caldo. Non solo, ci sono le protezioni per quanto riguarda la gamba complete, quindi c'è la ginocchiera e il gambale e un'altra cosa è possibile poi in alcuni modelli mettere anche le protezioni per le anche. Diventa una soluzione già un po' più tecnica e non vi nascondo però anche un po' più scomoda del jeans, perché comunque è un po' più tirata e quindi rimane sempre il suo discorso se dovete fare un'uscita in moto che prevede anche una passeggiata, un'escursione, questi iniziano ad essere un po' non sono scomodissimi, nel senso che comunque potete farla però comunque non avete lo stesso diciamo la stessa leggerezza di un jeans, rimangono un po' più pesanti. Sicuramente la protezione aumenta soprattutto nel caso di urto singolo ma anche la resistenza all'abrasione. Si tratta pur sempre di tessuto per cui non vi aspettate di scivolare per 100 metri e avere il pantalone intatto, in questo caso molto probabilmente si strapperà però comunque è certificato contro l'abrasione. Anche in questo caso dipende, il pantalone tecnico con le protezioni incluse può avere un costo dai 130 ai 140 euro nei casi più bassi fino ad arrivare anche ai 300-400 euro di un pantalone tecnico H2 out, quindi completamente impermeabile, con membrana invernale, con determinate protezioni tutte incluse e con determinate dotazioni catarifrangenti. Poi varia molto anche a seconda del fatto che sia completamente regolabile, che sia modulare, che abbia più o meno prese d'aria, quindi lì c'è veramente da capire bene le caratteristiche del singolo pantalone e quelle che si cuciono soprattutto al nostro utilizzo. Questi sono, sia i jeans che questi, comunque rappresentano una buona soluzione per andare in giro in maniera spensierata. Questi però d'estate soffrite un po' anche perché se sono neri attirano più calore e quindi io per esempio quest'estate quando ho fatto il giro di tagliamoto ho scelto di andare con i jeans. Dopodiché passiamo alle giacche. Ah, le giacche! Giacche ce ne sono una marea. Ci sono le giacche in cordura, le giacche in tessuto, le giacche in pelle. Beh, andiamo ad analizzarli. Io la prima giacca che ho acquistato è questa qui. Perché? Perché all'inizio non avevo ben chiaro cosa fare con la moto, pensavo di non utilizzarla d'inverno ma solamente d'autunno e allora ho scelto una giacca che avesse anche il trapuntino interno. Trapuntino che si può eliminare e che sotto nasconde il paraschiena che è abbinato a questa giacca e a questo brand. Costo del paraschiena 60, 70, 80 euro, anche 110 euro a seconda del modello. Costo della giacca, qui siamo sempre sull'ordine dei 200 euro. Non pensate di spendere tanto di meno per una giacca tecnica con tutte le protezioni perché è un po' idealistico. In questo caso quali sono le protezioni? C'è quella per la spalla, quindi la parte esterna della spalla, e la gomitiera e quella per l'avambraccio. Quindi perché ci sono queste protezioni? Perché tendenzialmente questi sono la spalla e l'avambraccio, sono i punti di contatto quando andiamo a cadere o a scivolare. Quindi avere le protezioni in questi punti è sicuramente una sicurezza. Il paraschiena è da acquistare a parte. Qual è la logica però del paraschiena? Quella di non comprare quello abbinabile tramite velcro ma comprare un paraschiena esterno. Un paraschiena esterno come per esempio questo della zandonata che mettete dietro vi protegge sicuramente in maniera migliore perché arriva fino alla parte bassa della schiena e quindi protegge anche in parte anche l'osso sacro. Perché è meglio? Perché questo lo abbinate a tutte le giacche. Mentre per esempio comprate una giacca spivi, comprate il paraschiena spivi, poi vi attira una giacca dainese e dovete comprare pure il paraschiena dainese. Comprate un paraschiena esterno che va bene in tutte le giacche, va bene anche se volete poi comprare una tuta in pelle e siete tranquilli. A lungo andare risparmiate, non fate come me che alla fine ho tre paraschiena per ogni tipologia di giacca. Ma bando alle ciance, perché questa giacca qui? Perché protegge bene, è utilizzabile anche d'inverno, non è impermeabile. Esistono anche giacche impermeabili però il listino si alza tantissimo. Costava poco, ha anche tutte le bande catarifrangenti qui sulla spalla, qui sul braccio e anche qui sotto sulla parte laterale. Ed è regolabile poi nella parte esterna con un'ottima dotazione di tasche. Questa è una giacca che io consiglio per un utilizzo a 360 gradi. Non solo per l'uscita un po' più spinta, quella domenicale, ma anche per l'utilizzo in città. Perché? Perché è comoda tendenzialmente se togliete le protezioni assomiglia totalmente ad una normale giacchetta che potreste mettere tutto l'anno. È davvero comoda, l'unico difetto di questo modello in particolare è che d'estate è tanto coprente. Nonostante ci siano delle prese d'aria nella parte superiore, beh non è sufficiente per farvi arrivare un bel rinfresco. Per questo io poi ho deciso di acquistare una giacca appositamente estiva. In particolare questa qui che è secondo me molto bella, ha i miei colori preferiti che sono nero e bianco con un pizzico di rosso. Anche in questo caso fate attenzione che ci siano tutti gli inserti catarifrangenti. In questo caso ci sono le placche di titanio sulle spalle che è una caratteristica di questo brand. Questa è una giacca già un po' più sportiva con una gombina anche nella parte posteriore, come potete vedere però sia la parte posteriore sia la parte anteriore ha queste forature che fanno entrare davvero tantissima aria. Occhio però che non funziona benissimo con le moto a cupolino alto perché deviano tutta l'aria e lì non entra. Con le Nanked invece le sportive va benissimo perché ti arriva talmente tanta aria che veramente una volta in movimento sei molto fresco. Inoltre è dotata anche di un piccolo antivento e quindi è utilizzabile sia d'estate sia diciamo in quelle belle giornate primaverili in cui durante il giorno fa caldo ma la sera potrebbe arrivare un po' di freschino. Ha tantissime tasche sia interne che esterne, anche in questo caso c'è la possibilità di mettere un paraschiena interno. Tuttavia questa è una giacca che va bene per esempio se avete un utilizzo della moto che è solamente per le giornate di sole dove fa tanto caldo. Allora comprate questa, la comprate una volta, se voi sospendete l'assicurazione non appena finiscono le ferie questo è l'oggetto ideale da avere secondo me. Una giacca estiva, bella traspirante con le buone protezioni e in cordura anche in questo caso la cordura è meglio rispetto al tessuto della giacca precedente perché ha una migliore resistenza all'abrasione. Poi anche lì di giacca ce ne sono tantissime per tantissimi utilizzi diversi. Io ho anche un giubbotto con le protezioni dedicato all'uso invernale però bisogna capire se voi poi utilizzate la moto d'inverno. Quindi anche lì sempre come avete visto molta della scelta dell'abbigliamento tecnico dipende appunto dal tipo di utilizzo. Volete farci tanti chilometri, viaggiate con la moto anche quando piove oppure viaggiate solamente d'estate? Sono queste le domande che dovete porvi per orientarvi verso la scelta del dispositivo giusto. Così come per l'abbigliamento, così come per qualsiasi altra cosa. Infine passiamo alla regina di tutte le protezioni, ovvero la tuta in pelle. Su questa ci ho fatto un video dedicato. Allora quali sono i pro della tuta in pelle? Innanzitutto ci sono due tipologie di pelle. Tuta in pelle bovina che costa leggermente di meno. Siamo sull'ordine tra i 300-400 euro per quelle più economiche fino ad arrivare a 1000-1500 euro per quelle un po' più costose. E poi siamo sulla pelle di canguro che invece ha listini molto superiori. Viene utilizzata tendenzialmente sulle top di gamma. Allora anche in quel caso bisogna fare alcune considerazioni. Perché? Perché dipende molto dal tipo di utilizzo. Innanzitutto la pelle bovina è un po' più pesante ed è più rigida. Mentre la pelle di canguro offre la stessa protezione all'abbrassione, se non superiore, ma è molto più morbida e molto più leggera. Quindi ci sono delle differenze per quanto riguarda poi il comfort della stessa tuta. Poi tutta in pelle a due pezzi o tutta in pelle intera. Quella in pelle a due pezzi non può essere utilizzata nella maggior parte dei circuiti. Solamente alcuni piccolini permettono di utilizzarla, per esempio sulle pit bike dove appunto le velocità non sono eccessive. Mentre per le piste diciamo di serie B e di serie A, beh allora lì c'è bisogno per forza della tuta intera. Per quanto riguarda la tuta a due pezzi invece risulta comodo per chi ha una naked, una sportiva e ha un'andatura abbastanza allegra. La sconsiglierei per i viaggi lunghissimi, perché? Perché comunque siete belli imbastiti, avete una posizione abbastanza rigida. Quando scendete dalla moto in abbinamento con gli stivali sembrate appunto dei piloti di MotoGP che si avventurano per una città, per un bosco, per un sentiero. Non è proprio il massimo della comodità. Tuttavia conosco anche gente che con la tuta in pelle ci macina chilometri. Esempio Sinangagiri che ha la tuta in pelle intera la usa anche per andare a prendere il caffè. Io sto approcciandomi adesso alla tuta in pelle, beh sicuramente è più scomoda di una giacca o di un jeans o di un pantalone tecnico perché appunto rimani costretto lì all'interno. Poi ha poche tasche per cui molto probabilmente poi opterete anche per l'adozione di un borsello da gamba o comunque di un marsupio o di uno zanetto. E quindi comunque bisogna considerare anche che d'inverno è abbastanza fredda e diventa anche rigida, mentre d'estate patite tantissimo il caldo anche con le tute traforate perché comunque la pelle aderisce col sudore e si crea un effetto colla un po' leggermente fastidioso. Però lì va a gusti, a sensibilità, quindi bisogna un attimo valutare. Secondo me la cosa migliore all'inizio è evitare la tuta in pelle, prendere una giacca di buona qualità e dopodiché valutare se si ha il piacere di avere una tuta in pelle. La pelle però sicuramente offre la migliore protezione possibile sia a livello di protezioni interne perché poi metterete il paraschiena, ci sono tutte le protezioni sia per le gambe che per le braccia, potete mettere la pettorina e poi soprattutto una resistenza all'abrasione e agli strappi molto più elevata rispetto ad una tuta in cordura. Ci sono video online che dimostrano proprio gente che si fa trascinare sull'asfalto con le dute in pelle e se ne esce tranquilla. Sicuramente avete poi il problema dei lividi, delle botte, però ovviamente va bene una botta però non uscite con il braccio completamente sanguinante. Dipende però molto dal vostro stile di guida, sicuramente non la consiglierei per un lunghissimo viaggio, invece per l'uscita un po' più alle grotte in cui sapete che magari rischiate quel pochino in più, allora magari forse la tuta in pelle è la scelta migliore. Se sapete anche che se utilizzate la moto pista e strada, allora la tuta in pelle è sicuramente obbligatoria. Infine, guanti. Allora, guanti lì dipende molto dalla sensibilità. Io vedo che tanti guidano senza guanti, non va bene. Esistono dei guanti anche in tessuto che hanno le protezioni per le nocche e anche per il palmo, ma in tessuto hai un'ottima sensibilità. Io per esempio quelli estivi della Spivi li ho pagati pochissimo, una quarantina di euro, e vanno benissimo. Ce ne sono anche di modelli più economici che comunque offrono la stessa protezione. Per quanto riguarda invece i guanti racing, quelli totalmente in pelle, che arrivano fino alla parte alta del polso, beh, lì ovviamente il guanto è un po' più coprente e più scomodo da utilizzare nell'uso quotidiano, anche solo per accedere al navigatore, oppure se devi scendere alla moto devi toglierlo e devi metterlo in continuazione. Insomma, anche solo per pagare al casello quello diventa più scomodo, però essendo di tipo racing, è un guanto che si orienta verso determinati usi della moto, quindi un po' più sportivi, un po' più specifici. Nel 90% dei casi un guanto che arriva al polso va bene, quello sopra il polso però sicuramente è molto più protettivo, soprattutto in questa parte qua, che comunque è delicata, perché quando cadete l'istinto vi fa portare le braccia così, per cui capite bene quanto si è esposta questa parte qua e quanto sia importante avere un minimo di protezione anche sopra alla zona del polso. Quindi, come al solito, bisogna tanto tanto valutare tipologia di moto, tipologia di guida, tipologia di utilizzo e solo dopo scegliere l'abbigliamento. L'unica cosa che mi raccomando è non scegliete l'abbigliamento per moda o perché l'avete visto su qualcun altro e vi sembra figo. Scegliete l'abbigliamento una volta che avete deciso che quella giacca, quel jeans, quel pantalone, quella tuta, la utilizzerete perché altrimenti rischiate di fare acquisti sbagliati. Ovviamente informatevi anche con altre persone più esperte di voi oppure parliamone qui sotto nei commenti. Per questo video è davvero tutto, spero di essere stato più esaustivo possibile. Non ho parlato di prezzi, i modelli più economici hanno... si vede che sono più economici, c'è poco da dire. I modelli in cui magari costano di più state investendo comunque sulla vostra salute. Il consiglio è quello di non comprare tutto assieme, partire sicuramente da giacca e paraschiena e poi piano piano integrare con tutti gli altri accessori. Giacca e paraschiena però sono le cose fondamentali se iniziare ad andare in giro in moto e a macinare chilometri. Per questo video è davvero tutto, noi come al solito ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, ciao! Grazie a tutti!